Dopo aver ottenuto un buon pareggio sul campo dell'Ocri, seconda forza del Girone I, il Santa Maria Cilento torna mercoledì nuovamente in campo per il recupero della quattordicesima giornata, gara rinviata per la presenza di calciatori siciliani risultati positivi al Covid. Il match con il Licata è in programma allo stadio Carrano di Castellabate con inizio alle 14.30. Per questa gara il tecnico dei giallorossi di Gaetano può contare su tutto il gruppo e proporrà il 3-4-3 arbitra Giordani di Aprilia. Sul fronte mercato c'è poi da registrare una voce in ingresso per il club del presidente Tavassi. Dalla Gelbison è arrivato infatti il portiere Francesco Cannizzaro, 19 anni, di proprietà del Bitonto. L'estremo difensore palermitano si è aggregato subito con i nuovi compagni del Santa Maria Cilento. Novità di calciomercato anche in casa Gelbison è l'attaccante Saveriano Infantino, 36 anni e un nuovo giocatore rosso-blu. Nato a Tricarico arriva dal Taranto e vanta una lunga esperienza tra i professionisti. Infantino ha iniziato la sua carriera in Serie D ad Ariano Irpino per poi indossare le maglie del Matera, dell'Ebolitana, dello Sporting Genzano, di Acicatene e Bitonto. Il salto in Serie C arriva con il Barletta. Per due stagioni ha difeso anche i colori dell'Aquila. Nella sua carriera ha oltre 420 gare giocate e 130 reti realizzate con due promozioni in Serie C, un rinforzo importante per il reparto offensivo rosso-blu. L'atleta già da domani con la ripresa degli allenamenti sarà a disposizione di mister Fabio De Sanzo. Infantino è stato presentato nella sede del club cilentano. Sono contento di vestire la maglia della Gelbison, ha detto una società con un progetto importante per me e motivo d'orgoglio. Cercherò di mettere a disposizione tutta la mia esperienza e di dare il massimo in campo.